La prologo di grotteria lasciatasi alle spalle il successo dell'iniziativa di San Martino adesso invita la popolazione su una via speciale, la via della natività. Grotteria per 365 giorni all'anno può essere vista come un paese presepe. Dalla sua altura domina il paesaggio circostante e attraversando le sue vineie e passando sotto i meravigliosi gafii si ha l'impressione di essere in un passato che non c'è più. Così esordiscono i giovani rappresentanti della prologo per creare una certa suspense nei confronti della prossima iniziativa. Infatti dicono in un giorno in particolare questo che vi abbiamo detto è ancora più evidente. Si tratta del 26 dicembre, giorno in cui il centro storico del paese si trasforma in un presepe per celebrare la nascita di Gesù Bambino. Le vie sono addobbate in modo da ricreare le scene di vita di quel tempo con gli antichi mestieri e le scene bibliche il tutto curato nei minimi dettagli per catapultarsi indietro di 2000 anni e riscoprire la gioia del Natale che non è solo nei regali e panettoni ma nell'arrivo di Gesù che trasforma i cuori e regala gioia. Vieni signore, rischiara le tenebre, vinci l'oscurità.